Musica Signore e signori, buona domenica, bentrovati in una nuova edizione del Tg6 la settimana. Domenica scorsa tornata di ballotaggi in due comuni abruzzesi. Ad Ortona Leo Castiglione si conferma con il 51,11%, battendo lo sfidante Cocciola che si ferma al 48,89%. Vediamo il servizio. Leo Castiglione si conferma sindaco di Ortona con 5.663 preferenze pari al 51,11%, superando al ballottaggio Ilario Cocciola che ha totalizzato invece 5.416 voti pari al 48,89%. Nel primo turno Castiglione che ha guidato l'amministrazione comunale negli ultimi cinque anni ha avuto il sostegno delle liste, il comune delle idee, la città ideale, Ortona civica, Forza Leo per Ortona, cittadini consapevoli, Ilario Cocciola, sostenuto da Ortona popolare, Ortona coraggiosa, Il Faro, Unione di centro, Ortona cambia, Democratici per Ortona, Ortona territorio. Al ballottaggio si è apparentato con le liste che hanno sostenuto il candidato sindaco Angelo Di Nardo. Nonostante l'apparentamento con il candidato sconfitto di centrodestra, Angelo Di Nardo, con Ilario Cocciola che aveva suscitato scalpore, Castiglione comunque è riuscito a prevalere in un testa a testa che si è concluso con uno scarto di 247 voti. Dieci seggi in consiglio comunale per Castiglione che dunque è confermato sullo scranno più alto di Palazzo di Città. Quattro vanno invece alle liste di opposizione. Esiste qualcuno al di sopra di noi, esiste una giustizia e credo che sia stata fatta giustizia perché ha vinto l'onestà degli ortonesi, ha vinto la nostra coerenza, la nostra serietà, il nostro rispetto verso sia i cittadini sia verso i miei candidati. La mia squadra ha detto Castiglione commentando il risultato elettorale. Ringrazio gli 80 candidati, a loro va il mio ringraziamento per quello che hanno fatto. Sarò il sindaco di tutti, anzi prima di quelli che non mi hanno votato. Noi siamo una squadra, non siamo quelli che si uniscono per vincere ma per amministrare. Per fortuna questo non è accaduto perché la coalizione del mio rivale avrebbe potuto vincere ma sicuramente non amministrare la città. E invece a San Salvo si conferma il centro-destra. Dopo un combattutissimo testa a testa a spuntarla è stata Emanuela De Nicolis su Fabio Travaglini. Dopo dieci anni di amministrazione Tiziana Magnaca, San Salvo avrà ancora un primo cittadino dona. San Salvo si conferma comune attrazione rosa. L'urna del ballottaggio ha infatti premiato Emanuela De Nicolis che prende il posto dell'uscente Tiziana Magnacca che comunque continuerà a seguire le vicende politiche cittadine dei banchi del Consiglio Comunale. Originaria di Termoli, la candidata del centro-destra si è giudicata allo scranno più alto di Palazzo di Città con il 51,18% delle preferenze, mentre il suo sfidante Fabio Travaglini di ispirazione centro-sinistra si è fermato al 48,82%. È stato un lungo testa a testa fino a tardasera, infatti a fine scrutinio i voti di differenza sono stati 231 contro i 552 del primo turno. Infatti nel primo round la De Nicolis aveva chiuso al primo posto con il 47,9% mentre Travaglini si era fermato al 42,71%. Il candidato di centro-sinistra ha recuperato qualcosa nelle due settimane di avvicinamento ma complice anche il mancato apparentamento con il terzo classificato Giovanni Mariotti di ispirazione democratica il cosiddetto ribaltone non è arrivato. Alla coalizione vincitrice vanno 10 seggi così ripartiti 6 per San Salvo Città Nuova, 2 per Lista Popolare e 1 a testa per noi San Salvo e San Salvo e Emanuela De Nicolis sindaco. Per la coalizione sconfitta 4 seggi, 2 per più San Salvo e 2 per il Partito Democratico. Ora, dopo la composizione ufficiale della squadra di governo, Emanuela De Nicolis darà il via alle nuove sfide che sono il saper intercettare e gestire al meglio i fondi del PNRR ma anche l'inizio dell'attività di Amazon che farà di San Salvo un grande polo logistico. Gli investimenti nella sanità sono al palo e la regione Abruzzo non individua il DEA di secondo livello. Ne è convinta l'associazione Nuova Pescara che chiede ai politici di mettere da parte le questioni campanilistiche. Ascoltiamo. Le reti ospedaliere legiferate dalla regione Abruzzo negli ultimi sette anni hanno prodotto solo bocciature dal tavolo interministeriale. Ma la cosa più grave è che allo stato attuale la nostra regione è l'unica d'Italia con una rete ospedaliera non validata. Sull'argomento è intervenuta l'associazione Nuova Pescara chiedendo alla politica di mettere da parte i campanilismi dei capoluoghi di provincia e avviare il procedimento di realizzazione del DEA di secondo livello. La mancata individuazione rischia di rimandare interventi finanziati con le risorse ex articolo 20, mentre lo spauracchio del commissariamento è di nuovo dietro l'angolo. Noi ce l'auguriamo perché dato che negli ultimi sei anni non si riesce a sbloccare questa situazione occorre un commissario governativo. Su questo bisogna trovare una soluzione. La soluzione la devono trovare e proporla ai politici, l'assessorato e i tecnici della regione. Noi li sfidiamo, li invitiamo a un confronto pubblico per discutere delle scelte fatte ed è come mai sono otto bocciature da parte del ministero. Una questione campanilistica la definisce Carlo Costantini, consigliere comunale di Pescara e promotore del referendum sulla nuova Pescara. Non individuare una soluzione significherebbe solo sfasciare la sanità pubblica regionale. Tagliare i confini e utilizzare il modello nuova Pescara vuol dire tagliare i confini delle AS degli ospedali o in alternativa tagliare i confini delle circoscrizioni provinciali e creare un collegio unico regionale all'interno del quale il singolo eletto non dovrà più rispondere esclusivamente del suo comune o della sua città nella quale è stato eletto ma dovrà personalmente rispondere di fronte a un'intera regione. È evidente che allora c'è bisogno di un dibattito pubblico alla luce del sole che superi qualunque tentazione campanilistica, che assuma al centro l'interesse dei cittadini e le necessità della risposta ai cittadini cosa che si può fare soltanto condividendo il metodo della programmazione trasparente, documentata, partecipata, consapevole. Anche Lance Abruzzo critica la politica del governo che continua a lanciare allarmi circa la difficoltà di rifinanziare il provvedimento del super bonus anziché renderlo strutturale. Presidente, il governo continua a insistere e a ribadire che non ci sono più fondi per il super bonus Lance non è dello stesso avviso, anche per quello che ha prodotto il super bonus negli ultimi anni a livello di PIL nel nostro paese. Certo, niente di più falso, tanto è stato acclarato in maniera forte dalla LUIS e conosciamo cos'è la LUIS dal Cresme di Bellicini che con una ricerca pagata dalla Camera dei Deputati quindi dal governo stesso, ormai sono 22 anni che ci sono i bonus e hanno sempre detto queste ricerche che lo Stato ci guadagna. Addirittura i numeri del 2021 soltanto col super bonus, lo Stato ha avuto un attivo di 4 miliardi di euro quindi niente di più falso che allo Stato servono i soldi per questi lavori sono lavori che senza i bonus non si farebbero, sono lavori che danno economia, sono lavori che danno sviluppo sono lavori che danno sostenibilità, sono lavori che eliminano il lavoro in nero quindi dove c'è economia, dove c'è un vantaggio per tutti i cittadini non vedo perché bisogna dire tutte queste falsità. Vogliamo provare un po' ad immaginarcelo? E cioè c'è dietro una moneta virtuale nell'eccezione dei crediti? Che lo dicessero? Noi come Ance diciamo che è bene che i lavori lo devono fare le imprese qualificate in modo tale che non ci siano più truffe perché quelle sono una vergogna e poi diciamo anche mettiamo questa posta in maniera limitata cioè circa 15 miliardi di lavori soltanto all'anno e mettiamolo per almeno 10 anni in modo tale che tutti quanti possiamo organizzarci soprattutto l'industria delle costruzioni si può organizzare e sfatare, voglio sfatare qui anche un'altra diceria, un'altra falsità, un'altra fake news cioè tutti questi rincari nel mondo dell'edilizia non sono dovuti assolutamente al 110 tanto è vero che i rincari si sono già verificati prima che il 110 partisse e per quanto riguarda tutti i rincari e le materie prime l'Italia è quella che ha la percentuale inferiore rispetto a tutti gli altri paesi del G20 se noi immaginiamo che solo per citarne uno Stato l'Inghilterra ha circa il 10% di inflazione e noi stiamo ancora al 6-7% capiamo che noi siamo ancora un paese su questo punto vigoroso e bravi se vogliamo dire Si conclude male per sempre l'avvertenza del ATR Group di Colonela i 63 dipendenti hanno perso definitivamente il proprio lavoro lo annunciano in una nota amara le segreterie provinciali di CGL, CISL e UIL che considerano la chiusura di questo marchio storico una sconfitta per l'intero Abruzzo Ascoltiamo Si sentono sconfitte le sigle sindacali terramane di CGL, CISL e UIL nell'annunciare la morte definitiva dell'ATR Group di Colonela Dal 27 giugno scorso il licenziamento ha avuto effetto e i 63 tra lavoratrici e lavoratori dell'azienda che si occupa di compositi in carbonio hanno cessato definitivamente il loro rapporto di lavoro dopo anni di tribolazioni Quali? Due fallimenti fronteggiati da una cassa integrazione vitale da una parte per la sopravvivenza delle maestranze è allo stesso tempo necessaria per prendere tempo e tentare una via alternativa attraverso l'attivazione di politiche industriali e sinergie più volte sollecitate che purtroppo, secondo i sindacati, non c'è mai stata realmente In una nota le segreterie provinciali di CGL, CISL e UIL definiscono scellerate le ultime gestioni imprenditoriali dell'ATR che hanno portato ai fallimenti tra l'altro l'unico caso in Italia in cui il secondo fallimento si è aperto prima che si concludesse il primo dagli scioperi, presidi, assemblee, cortei, sit-in, tavoli istituzionali a tutti i livelli i dipendenti hanno combattuto strenuamente e più volte urlato quanto sarebbe stato vitale per il territorio e l'intera vallata della vibrata il rilancio dell'ATR con la chiusura definitiva di questa azienda che fu prestigiosa concludono le sigle sindacali terramane non muore solo un marchio storico e di lustro per l'intero Abruzzo ma muore definitivamente la speranza che in questo paese si possa vivere lavorando sulla vertenza ATR di Colonnella cala così il sipario per sempre I sindacati esprimono grande soddisfazione per la chiusura della vertenza che fa approdare i 219 lavoratori ex oma nella società Lear Nella giornata di martedì 28 giugno dopo quasi due mesi di trattative è stato sottoscritto da FIM, FIOM e WILM territoriali l'accordo per il passaggio dei lavoratori di Oma in Lear dopo l'acquisizione da parte di quest'ultima avvenuta il 25 marzo 2022 dalla procedura fallimentare dopo la mobilitazione delle maestranze e l'approvazione dell'esercizio provvisorio che ha consentito la continuità lavorativa e occupazionale è iniziato il percorso che con non pochi ostacoli ha traguardato Lear azienda legata al settore aerospace con sede nella provincia di Benevento Però oggi permettete di dirci che è una bella giornata perché per l'ennesima volta si riafferma che questo è un territorio che ci tiene tanto al lavoro e che attraverso l'appartenenza a un territorio molto dedicato ai sacrifici attraverso la personalità dei lavoratori, attraverso la competenza siamo riusciti a salvaguardare i posti lavoro di 219 persone Ora i sindacati sono in attesa di discutere con l'azienda il piano industriale a garanzia degli investimenti futuri e di avviare una discussione in merito alle peculiarità dei singoli territori L'arrivo di un acquirente dopo varie aste andate deserte ci fa sperare in un futuro, anche in un'altra azienda, però in un futuro roseo e su questo noi chiederemo anche rassicurazioni nella richiesta di un piano industriale e degli investimenti L'accordo che abbiamo siglato unitariamente e con il mandato l'appoggio di tutte le maestranze garantisce i diritti per tutti Le problematiche strutturali delle sedi che ospitano i centri per l'impiego sono state al centro della riunione voluta dal assessore alle politiche del lavoro Pietro Queresimale Sono 21 milioni di euro stanziati per potenziare il centro per l'impiego Le problematiche strutturali delle sedi che ospitano i centri per l'impiego sono state al centro della riunione che l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Queresimale ha tenuto questa mattina nella sede della regione a Pescara L'assessore ha chiamato a partecipare i sindaci delle 15 città bruzzesi che ospitano uffici dei centri per l'impiego per conoscere direttamente da loro i problemi da affrontare e predisporre così soluzioni tecniche efficaci I centri per l'impiego come da finanziamento governativo c'è anche il miglioramento strutturale di queste sedi quindi voglio fare con loro il punto della situazione per poi intervenire e cercare di adeguare quegli edifici che non sono a norma, che hanno problematiche a livello di barriere architettoniche questo è un progetto molto importante perché vogliamo far tornare i centri per l'impiego ad assurgere quel ruolo per cui sono nato ovvero quello di incrociare domanda e offerta di lavoro in questi finanziamenti c'è il potenziamento anche del personale stiamo facendo dei concorsi ma anche a livello formativo e a livello anche informatico per fare una rete adeguata ai tempi Assessore ci sono oltre 20 milioni di euro a disposizione Sì, sono oltre 20 milioni di euro per cercare di potenziare da ogni punto di vista i centri per l'impiego che poi dovranno dare attuazione a questo programma del PNR che si chiama GOL, che non è un termine calcistico ma è garanzia occupabilità lavoratori anche lì somme importanti per incentivare l'assunzione di disoccupati, inoccupati e soprattutto formarli perché molti datori di lavoro, molti imprenditori cercano manovalanza ma non hanno dei profili specifici e quindi spetta a noi istituzioni andarli a formare e a qualificarli Inaugurato a Teramo il cantiere del primo lotto del progetto di riqualificazione del parco fluviale L'intervento è considerato una priorità per l'administrazione comunale e costerà complessivamente 8 milioni di euro Vediamo Il parco fluviale di Teramo, un anello verde e lussureggiante che circonda la città sarà interamente riqualificato con un progetto da 8 milioni di euro Intanto è appena stato inaugurato il primo lotto da 600 mila euro che prevede l'abbattimento di un vecchio edificio che sarà trasformato in un moderno ristoro soddisfatta l'assessore comunale all'ambiente Martina Maranella È un momento di riconnessione con la città e di riappropriazione di spazi verdi nella tutela e nel rispetto chiaramente dei luoghi Lavoro che parte da molto lontano, c'è una progettualità a differenza di quello che alle volte si cerca dall'opposizione di dire c'è un progetto, una progettualità che vede Teramo al centro di ogni obiettivo e questo è uno di quelli Una volta completato il progetto, il parco fluviale di Teramo si connetterà alla città attraverso quattro vie d'accesso Ponte a Catena, Via Vecchia, Via Vecchio Mattatoio e Via Cona Un luogo questo sempre più frequentato dei Teramani e sul quale il Comune ha deciso di investire Per la prima volta nella storia esiste un progetto di valorizzazione del parco fluviale che ne rispetta la natura, l'identità ma lo valorizza come infrastruttura ambientale hub di riferimento Di fatto lo è già stato nel corso di questi anni teatro di iniziative, di attività che l'hanno fatto conoscere e a cui è stata legata un'attività di cura e di manutenzione Oggi facciamo un passo avanti straordinario dimostrazione del fatto che tutta la programmazione che abbiamo messo in campo non è un libro dei sogni, noi il sogno lo stiamo scrivendo con l'attività quotidiana, con progetti finanziati che stanno partendo e che riguardano veramente quelle che sono le potenzialità per troppo tempo inespresse non sviluppate della nostra città Il progetto di riqualificazione del parco fluviale di Teramo sarà realizzato da Casa Atelier Architetture uno studio tecnico costituito da sole donne Abbatterete questa casetta e come la ricostruirete? La nuova casetta sarà ricostruita con una struttura di acciaio e mattoni e finiture di canapa che è una tecnologia a cui teniamo molto che è perfettamente ecocompatibile, riciclabile e consente una qualità di vita all'interno delle strutture veramente ottima dove appunto la natura e la qualità dello stare in natura si ripercuotesse anche nello stare all'interno delle nuove strutture che realizzeremo Come si lavora con un team tutto al femminile? Si lavora molto bene nonostante tutti ci chiedano se litighiamo in realtà non è così Come in molte regioni italiane anche in Abruzzo alvia i saldi estivi fra chi opera di trovare l'occasione buona e chi di fare qualche affare in più dopo due anni di pandemia Gli esercenti in genere non sono d'accordo con una partenza così anticipata Vediamo Partono oggi i saldi nella nostra regione Marina Dolci Quali sono le aspettative e le speranze dei commercianti? Allora intanto è una bella giornata Iniziamo con gli sconti Tutte le attività sono ben allestite C'è buona scelta E' una data molto anticipata Quindi è uno sconto che noi vogliamo fare ai nostri cittadini e ai nostri clienti Partono questi saldi Insomma l'obiettivo è far sì Insomma si possa fare qualche affare in più Rispetto agli ultimi due anni che sono stati contrassegnati anche dalla pandemia Sì sicuramente ci aspettiamo un po' più di affluenza Capiamo anche che ci sono tante bollette Tante spese in più per le famiglie Però insomma noi partecipiamo Con questi sconti sicuramente le vendite saranno accattivanti Siamo a Pescara, siamo in pieno centro Ci sono tanti pescaresi pronti a fare acquisti Ma anche tanti turisti Si rivede una città abbastanza piena? Sì stiamo vedendo che ci sono dei turisti I B&B e gli alberghi sono occupati Quindi sì è una città bella In più abbiamo la bandiera blu del mare E quindi sì ci aspettiamo ottimi lavori Lei prima parlava di questa data anticipata Che è stata decisa qualche anno fa dopo il terremoto Però molti non sono d'accordo con la partenza dei saldi I primi giorni di luglio Qual è il suo pensiero? Sì allora non siamo d'accordo Nel senso che la tempistica di vendita è troppo breve Come una famiglia anche le attività commerciali Hanno tante spese da dover sostenere E quindi comunque noi ci auguriamo che questa data Possa essere spostata un pochino più avanti Cioè tornare proprio a non dire sconti ma saldo E il saldo dovrebbe essere ad agosto Vediamo però poi le promozioni ci sono sempre per i nostri clienti Quindi non è un togliere l'offerta alla clientela Sicuramente ci sarà sempre uno sconto per i nostri clienti Adesso cambiamo argomento parliamo di sport Non solo la questione relativa all'indice di liquidità Anche i mancanti versamenti IVA Una situazione persino peggiore del previsto per il Teramo Che ora attende la battaglia legale Con poche speranze di mantenere la categoria Non solo l'indice di liquidità Anche l'IVA e il suo mancato versamento Tengono il Teramo fuori dalla prossima Lega Pro Almeno per il momento Visto che pochi minuti dopo il risponso della Covizoc La società ha fatto sapere Che presenterà ricorso E per questa ragione ha conferito mandato allo studio DCF Sport Legal per assisterlo e difenderlo In una battaglia che però si preannuncia dagli esiti Difficilmente positivi Partiamo per punti Quelli che ha rilevato e contestato L'organismo di vigilanza delle società professionistiche Chiaramente l'indice di liquidità Il parametro che si sapeva mancante Sarebbe servito un ripianamento Della carenza finanziaria Che tocca il milione di euro 975.490 euro Una somma che qualora il Teramo uscisse in denne Dal procedimento sportivo che si aprirà Sarebbe comunque da saldare Poi c'è la questione relativa al deposito Di una relazione Che attesti l'avvenuto superamento Delle condizioni Che avevano determinato l'impossibilità Di giungere ad una conclusione Sia sulla semestrale al 31 dicembre Sia su quella al 31 marzo Infine c'è il capitolo IVA Obblighi di pagamenti dei debiti fiscali Relativi agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 La società aveva chiesto una rateazione Lo scorso 20 giugno a 48 ore Dalla fine dei tempi Per presentare la domanda di iscrizione Pur avendola presentata in extremis La gente della riscossione, si legge, non ha ancora fornito nessun riscontro Né elaborato un piano di ammortamento Ne deriva che al termine perentorio del 22 I debiti erariali menzionati non possono essere considerati Oggetto di un rituale adempimento rateale Tale da permettere la tempestività dei pertinenti obblighi di pagamento Una situazione nera, nerissima, anche peggiore Di quanto ragionevolmente ci si potesse attendere nei giorni scorsi Quando accanto alle perplessità sul famoso indice di liquidità Era balenato un filo sottile di ottimismo Per la pronuncia Tar Che tuttavia non aveva nulla a che vedere con il merito Della vicenda Teramo I debiti con l'erario e la cifra a monstre per ripianare Sono spie evidenti di una situazione complicata Che adesso il legale Cesare Di Cintio proverà a ribaltare Ma le speranze sono davvero ridotte al lumicino Il Consiglio federale dell'8 luglio sarà chiamato a definire gli organici Dire che ci sarà anche il diavolo oggi è un esercizio davvero complicato Anche il campo basso rischia la stessa sorte sportiva Fermana e Torres adesso sperano E hanno, stavolta davvero, fondati motivi per farlo Anche per oggi, signore e signori Termina qui l'edizione del TG6 la settimana Grazie di averci seguito Buon proseguimento Grazie a tutti